E ora vai! Aspetta, aspetta! La testa! Guarda la testa! Polizia! Merda! Donunzio, sarà bene che ci sbrighiamo, perché qui ho l'impressione che le cose ci stanno intendo male. Niente paura, sono ragazzacci, lascia rispogare, tengono il sangue caldo. Ciondo, scuola della sposa! 20 milioni il valore del carico. Sempre ai soldi, pensate voi dal continente. Ma che credi che non ti posso pagare? Ecco, guarda, posso pagare tutti. Anche i ministri posso pagare io. 20 milioni hai detto? Ecco, 20 milioni. Anche di più te ne posso dare. Se tu accetti di essere mia, io ti compro la casa. Ti compro l'automobile blindata, tutto, tutto. Tu, quella femmina che ho sempre sognato. La donna ideale. Giovane, bedda, con un dolce accento continentale. Baciami. Baciami. Grazie.